Sono contento, guarda, e ci tenevo molto a questa lezione. Dopo otto anni volevo fare, vedere tutti i piatti, farli capire, capito? Perché tanti, hai capito, li mangiano, ma non conoscevano tutti i concetti, la storia che c'era dietro ogni piatto. Sì, quindi era importante anche tutti i miei ragazzi, tutte le volte che tornavamo dall'identità. Non riuscivo a spiegare tutto quello che è. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.